Il contatto come gli anni scorsi, verrete divisi in squadra. Condizioni meteo stabili, come da previsione, poche nuvole quasi sta aprendo. Ci siamo, Ale. Tutto confermato, il percorso lungo arriverà in vetta allo Schabert. Molto tesi. Un salto nel vuoto. È una ripresa e spero di portarlo a termine. 3, 2, 1, via! Tutto confermato il forso che arrivino tutti. Questa è la cosa più bella quando arrivano tutti. Ciao, buona giornata! Ciao, buona giornata! Il pettorale 419, Simone Dallin in questo momento in testa sul Vertical K2 Eh quest'anno ero più... avevo voglia di rifarmi, bello, da sempre emozionista della montagna Ho fatto la gara con lui e ci siamo tirati un po' al collo Il primo Simo è andato via subito Sono andata via subito, mi sentivo bene, le gambe giravano L'ultimo tratto è sempre un pochettino faticoso Però con il tifo delle persone di casa sotto si arriva sempre Si è andato forte, vai, 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 grande, 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 grande Non è arrivato Qua arriva la gente, ah qui sale e coca, c'è biscotti, banane, c'è di tutto Il Barbera è l'ultimo a destra Il primo pezzo in discesa ho fatto la differenza Ho preso il vantaggio che mi ha... che sono riuscito poi a mantenere fino a qui E per ben che sono piemontese non ero mai salito sullo Schalberto Mi vergogno, è una bella gara E' una corsa tipica Sky Race, quindi salitone e poi discesone E' stato bellissimo, soprattutto in cima c'erano pezzi con la neve Ovviamente dei bellissimi paesaggi, sono riuscita a sbirciare qualcosa nel mentre E quindi sono felicissima Io stavo morendo a monte e poi grazie a loro Grazie, bravo Grazie ancora Grandi, grandissime Grandi, grandi Grazie ancora al mio gruppo di lavoro che non sono solo questi Grazie ancora al mio gruppo di lavoro che non sono solo questi Grazie ancora al mio gruppo di lavoro che non sono solo questi Grazie ancora al mio gruppo di lavoro che non sono solo gli